Solo i tre noti 5 stelle di Ascona, ma anche strutture meno lussuose ma originali, sono entrate quest'anno nella classifica dei migliori hotel svizzeri stilata dalla Zontax Zeitung. L'Art Hotel Riposo di Ascona è entrato nella top 5 per il rapporto qualità-prezzo, mentre l'albergo Losone è risultato il migliore per accogliere le famiglie. Francesca Motta è andata a visitarli e a conoscere i loro creativi direttori. Sentiamo. L'Art Hotel è un nome, una filosofia. L'impronta data dai giovani e dinamici fratelli, albergatori e artisti per la tradizione familiare, si percepisce in un colpo d'occhio. Siamo un po' una famiglia colorata e ognuno ha un po' la sua funzione. Siamo dei musicisti, mio padre è pianista, mia sorella ha una voce incredibile, e io suono un po' di sassofono e facciamo sempre i concerti il sabato sera qua nel cortile. Vorremmo sempre riflettere il nome dell'albergo, si chiama Veramente Riposo. Faticavamo anche un po' a pensare, ma aiuto, abbiamo proprio questo nome qua, quindi abbiamo deciso di metterci l'arte davanti e di dare anche al nome un colore. Noi abbiamo l'esposizione perenne di quadri dell'artista della casa e noi stessi riempiamo con così tanti fiori e decoro perché è un piacere per noi. Lasciando la corte più su, si giunge sulla terrazza panoramica. Per noi è così, qui sopra in terrazza il cliente riesce veramente ad arrivare alla sua tranquillità. È tradizione della casa portare a questa tranquillità tramite l'arte, i colori, i profumi che sono dati dalla natura a se stessa, questa panoramica bellissima sopra i tetti e quindi c'è comunque anche questa cultura del tranquillo. Il sabato sera facciamo un po' di festa, però il cliente se vuole avere tranquillità ce l'ha. Un'opera a prezzi tutto sommato abbordabili, questa dai fratelli Studer, che vanno inoltre fieri di vedere sempre più asconesi assistere ai concerti del sabato.